L'hangar è vicino, veloci. Sì, signore. Ho il mal di mare. Credi che questa bagnarola resisterà? Non voglio restare per scoprirlo. Forza. Dannazione, ci servono tre diversi codici per aprirlo. Fantastico. Beh, vediamo di trovare. Mort, di dunque c'è qualcun altro. E noi abbiamo il primo codice. 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 dammi un attimo di reti finalmente andiamo cene a Grazie. Grazie. Capitano! Beers, sei pronto? Beers, ci sono! me resta solo la 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 Lì abbiamo tutti, torniamo indietro. Lì, 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 torniamo indietro. Ci sono. Ehi. Roger. Presto? Sì, lo so. Ehi, qui? Sì, lo so. Pierce. Non serve dirlo due volte. Non c'è tempo per queste cose. Sì. 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 Mettiamolo in moto. Sì. 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 È diventata tutto. Struggeremo. Tutti i cannoni antiierei sono distrutti. Ok, serve un punto d'atterraggio. Fermiamo il missile. QG ad Alpha. Il conto alla rovescia del missile è iniziato. Trovate la centralina e fermate il lancio Lincevulma, Mugici, pensiamo noi Il percorso è bloccato Ti penseranno gli esplosivi a scomparlo Ok, ti compro io Il percorso è bloccato Il percorso è bloccato Il percorso è bloccato Ah, mancava solo questo Merda, il gioco si fa tutto Presto, Pierce, non c'è tempo Geo ad Alpha, lancio del missile annullato Ben fatto, Pierce Ora torniamo sull'aereo In modo da uscire da qui Ricevo Versa alla gru, mi tiro giù Ehi capitano, sono di svantaggio qua giù Un aiuto Fuggi ad Alpha, abbiamo un'emergenza Il missile è quasi pronto a lancio Come diavolo Sapeva che non è Non c'è tempo, permessa per la distruzione del missile è accordato Quella cosa ci ostacola Mettiamo fuori uso quei missili Ricevuto Va verso la città Qui FOS, c'è qualcuno lì FOS Qui Chris Redfield, BSA Un momento, vi collego all'agente Leon Kennedy Cosa? Leon, Leon dove sei? Chris, siamo appena fuori dal C, perché? Andatevere subito Un momento, non c'è No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Diavolo! Chris, ascoltami. Devi salvare due ostaggi da un pozzo petrolifero subacqueo. L'agente Sherry Birkin e Jake Müller. È il figlio di Albert Wesker. Wesker! Chris, ha sviluppato gli anticorpi per il virus C. Ricevuto. Vado subito. Bene, grazie. Leon, aspetta. C'è una cosa che devo dirti. Ada Wong è morta. Ricevuto. Sherry e Jake hanno bisogno di te. Non deludere.